Ash, la nuova leggenda di Apex, season 11 è finalmente giunta tra di noi e succede tutte le volte. Tutte le volte che arriva una nuova leggenda sul roster di Apex, tutti ci riversiamo a provarla. Ragazzi, lo dico spesso e volentieri, premere dei tasti che fanno qualcosa non vuol dire essenzialmente sapere utilizzare quella leggenda nel modo giusto e allo stesso tempo per impararla a utilizzare bene, nelle maniere corretti, analizzare cosa può fare, cosa non deve fare, come si deve comportare all'interno di un trio. Insomma, sono delle questioni molto diverse da E, E, Ultimate e poco altro, ok? Come dico spesso e volentieri, premere un tasto lo fanno le scimmie, sapere utilizzare le cose e tutt'altra, proprio tutt'altra questione. E proprio per aiutarvi a gestire meglio Ash, ovviamente mi sono messo anch'io a provarla, analizzo diversi gameplay di tanti pro player sparsi per tutto il globo e poi cerco ovviamente di farvi queste piccole guide. Guide nelle quali, ragazzi, andiamo a leggere, capire meglio quali abilità, come esse vanno utilizzate e come il personaggio dovrebbe essere imparato. Insomma, una guida per iniziare subito, per avere le basi importanti per utilizzare, al meglio, questa nuova leggenda di Apex. Sarà molto intrigante. Permettetemi quindi di mettermi qua nella mia piccola caselletta e farvi vedere Ash, anche se è coperta dal mio piccolo faccino, ok? La conosciamo tutti, Ash, la lore, ve l'ho spiegato in un video dedicato, in quel video abbiamo anche già visto quali sono le sue abilità, le vedete qua, abilità tattica, morsa elettrica, abilità passiva, marchio della morte, Ultimate Squarcio Fasico, dove in molti ragazzi hanno già espresso delle questioni che secondo me vi fanno comprendere molto bene che quel player di Apex non ne sa niente e cioè hanno iniziato a paragonare il nostro robottino, la nostra dottoressa Ashling Reed ha essenzialmente Wraith perché la sua Ultimate in qualche modo ci ricorda il TP di Wraith. Scopriremo nella parte dedicata alle strategie, al funzionamento e al modo di come essa deve appunto agire nel contesto in cui si trova, agisce in maniera completamente differente rispetto alla Wraith che ha un comportamento molto più difficile. Se potessi poi iniziare ragazzi dandovi una mia piccola opinione io penso che le abilità della nostra Ash siano estremamente semplici cioè non ci sono quei trucchetti, quelle finezze che potrebbero avere dei personaggi molto più complicati come un Wraith oppure vediamo un Gibraltar vi sembra molto semplice ma imparare a utilizzare il Gibraltar nella maniera giusta è una cosa completamente differente dal premere e faccio bolla ma questo è un altro discorso, lo affronteremo in un'altra situazione lasciate un secondo che ci infoniamo nel sito di Electronic Arts e comprendiamo di come le discrezioni che anche il gioco ci dà facciano assolutissimamente schifo perché l'abilità Morse Elettrica e si lancia una trappola rotante che danneggia e blocca il primo nemico a entrare nel suo raggio d'azione si è scritta giusta sapete come essa viene utilizzata sapete ogni quanto la sua abilità al cooldown lo sapete quanto in là può essere lanciata lo sapete come la traiettoria di questa Morse Elettrica deve essere gestita no, no, no perché appunto S tra il premo un tasto e ottengo Morse Elettrica e premo il tasto e ottengo l'abilità che so utilizzare correttamente Morse Elettrica sono due questioni completamente differenti utilizzarla sì se sì, quando? ma ragazzi andiamo a scoprirlo più avanti andiamo avanti e parliamo dell'abilità passiva Marchio della Morte sembra una cosa da niente ma anche qui tra il dire e il fare scusate c'è di mezzo il mare perché il Marchio della Morte ci permette di mostrare la posizione delle casse delle morti più recenti e segnalare gli aggressori sopravvissuti dette in parole povere ci permette di capire se la squadra che ha fatto fuori quelle casse che abbiamo davanti beh, è ancora viva e se sì, dov'è? insomma, potrebbe essere davvero molto utile come informazione ma in se per sé un'informazione non è né buona né cattiva come essa deve essere utilizzata? quello che è importante è che Marchio della Morte può essere una fonte essenziale importante di informazioni soprattutto quando lo scontro è successo da lì a poco e vi potrebbe dare un'indicazione di massima soprattutto nelle fasi finali del game e dare tante informazioni sulla posizione sulla rotazione e tanto, tanto, tanto altro insomma, ancora una volta l'informazione in Apex è una cosa importantissima il saperla poi utilizzare e... ciao! tante care cose per ultimo ma non per ultimo avevamo squarcio squarcio scusatemi fasico qui appunto vediamo una specie di somiglianza con Wraith peccato che non ci somiglia neanche sul pisciare cioè, sì c'è questo questo tunnel ok che si viene a creare ma essenzialmente il portale della Wraith può essere utilizzato in entrambe le direzioni entri da una parte esci dall'altra esci da quell'altra entri da quell'altra eccetera 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 la Wraith può creare un percorso che appunto ti permette di poter che ne so anche entrare in determinati edifici oppure fare delle svirgolettate molto importanti oppure fare dei rapimenti potreste aprire un portale in mezz'aria prendere un nemico oppure ancora potreste che ne so arrivare in dei punti più nascosti appunto perché la Wraith ci è arrivata squarcio fasico invece non è nulla di tutto questo voi con questa abilità che si ricarica anche abbastanza facilmente avrete la possibilità di creare un portale che non dura tanto quanto dura il tip-in della Wraith che può essere preso in una sola direzione e che la nostra Ash può aprire solamente in quello che vede c'è una bella differenza tra io creo il percorso io posso utilizzarlo in entrambe le direzioni e sì questo squarcio mi permette di arrivare velocemente dall'altra parte ma solamente in cose in punti della mappa che Ash vede la bellezza di questa di questa strategia senza ombra di dubbio di questa abilità di questa ultimate senza ombra di dubbio è quello di poter aprire un portale molto più velocemente di quanto non lo fa la Wraith peccato che manca appunto della possibilità di piazzarlo dove vogliamo non possiamo piazzarlo essenzialmente a mezz'aria ok dobbiamo piazzarlo in un punto del terreno e il gioco ci dirà dove esso può essere posizionato e dove esso non può essere posizionato non è qualcosa che deve essere sottovalutato anzi penso vivamente che sia un'abilità utilissima per attaccare ma anche per difendersi per flancare ma anche per trovare dei punti di salvezza insomma quella via di fuga che va sempre bene quindi un personaggio che non è esattamente un attaccante puro e questo ci porta al prossimo punto del video che sono appunto le strategie bene abbiamo letto le nostre abilità ora però continuiamo a entrare un po' più nel dettaglio della nostra hash perché come vi dicevo le abilità non sono né buone né cattive il modo in cui utilizziamo la nostra hash il modo in cui capiamo il gioco il modo in cui capiamo i limiti delle nostre abilità farà davvero una grande differenza e anche il modo in cui la nostra squadra è composta ma questo è un altro argomento ancora e madonna quanti argomenti quello di cui voglio parlare in questo momento del video è essenzialmente l'insegnarvi che premere il tasto e utilizzare bene un'abilità sono due cose completamente differenti e questo si impara solo quando si imparano anche i limiti delle nostre abilità perché non pensate che siano tutte rosa e fiori ok in realtà utilizzare correttamente che ne so anche come gli ho fatto l'esempio in maniera corretta l'abilità passiva vabbè non è per nulla facile richiede da parte vostra un coordinamento un modo di passarsi le informazioni che non è da tutti i player per quanto riguarda l'ultimate come si potrebbe utilizzare in maniera corretta quali sono i suoi limiti perché la nostra abilità è così diversa dallo shuriken che intendiamo a tirare e che possiamo portare in inventario ragazzi si studiano queste limitazioni si comprendono quando si sono comprese allora si riesce a definire quando è meglio utilizzarle ebbene sì in questo preciso momento del video voglio elencare un po' più nel dettaglio cosa può fare Morse elettrica marchio della morte il squarcio fasico partiamo da marchio della morte come vi dicevo un'abilità importantissima ma un'abilità incredibilmente potente ma essa che è così potente perché è così potente ragazzi ottenere informazioni e il potere in Apex sapere se gli aggressori che hanno fatto fuori quelle casse che stiamo marcando sono ancora vivi quanti sono e dove sono soprattutto nelle fasi finali del gioco pensateci con attenzione potrebbe indicare in maniera importante dove essi si stanno dirigendo se saranno i nostri prossimi concorrenti la posizione che stanno tenendo ok e tutto quindi diventa un fattore importante capire dove sono gli altri nemici avere questa informazione avere un'indicazione di che posto stanno prendendo se sono tanti se sono pochi dove sono diretti dove sono in questo preciso momento della safe ma attenzione questa è un'informazione davvero importante e come si deve gestire questa informazione importante condividendola come si condivide ma ovviamente parlando o comunque avendo una buona concezione di in che momento del game siamo non utilizzerei marchio della morte in qualsiasi momento vedo questi puntini rossi che sono faccio un esempio dall'altra parte della mappa prendo e vado con sparo sparato con il cannone e vado a prenderli non serve assolutissimamente a nulla però ad un certo punto magari in una rotazione beh potrei sicuramente comprendere che là da qualche parte c'è un team attenzione e qui già se siamo in quattro team avere l'indicazione di dove ne sta uno sarebbe molto molto significativo insomma vedete è un'informazione potente ma l'informazione deve essere letta deve essere poi tramutata in nostra energia in se per sé sapere che qualcuno da qualche parte nella mappa che abbiamo appena indicato c'è è ancora vivo o non c'è e poi non dire niente e poi non prendere delle contromisure efficaci contro di esse è come non avere questa informazione stessa cosa ragazzi potremmo parlare per quanto riguarda morsa elettrica molto facile premere il nostro tasto Q vero molto facile dire ah perfetto adesso quindi i nemici verranno bloccati e danneggiati dalla mia morsa elettrica sì sì ma attenzione la morsa elettrica se voi cercate di puntare qualcosa di molto lontano da voi oh mio dio sarà visibile davvero da tanto tanta distanza appunto perché morsa elettrica rispetto a una shuriken rispetto a una bomba a un tempo di percorrenza e velocità che è nettamente inferiore a quella appunto delle granate e delle bombe e quindi i nemici potrebbero tranquillamente vedere che sta arrivando e spostarsi comprendiamo che il raggio di morsa elettrica è molto più importante ed è una traiettoria drittissima rispetto appunto la traiettoria di uno shuriken che andiamo a lanciare e appunto anche questo dovrebbe indicarvi che morsa elettrica è molto facile da lanciare ma è molto lenta quindi è molto facile da prevedere quindi qual è il momento giusto da utilizzare è meglio puntarla alla testa al torso oppure subito vicino a un punto dove essa si schianta e si attivi perché l'abilità non si attiva a mezz'aria l'abilità si attiva solo quando questo nostro shuriken la nostra morsa elettrica sbatte contro un oggetto ah ecco qui un'altra cosa davvero molto importante quello che vi deve essere chiaro è che morsa elettrica sarà semplicemente un'abilità che però deve essere utilizzata con intelligenza una volta ogni tanto ma soprattutto in determinate condizioni ultimo ma non ultimo abbiamo squarcio fasico ve l'ho già letta ve l'ho già spiegata ma anche qui utilizzare squarcio fasico sarebbe ottimo durante un movimento di push molto aggressivo da parte del nostro team ma attenzione il tempo di apertura di questo tp che fa il nostro droide è molto inferiore rispetto a quello dell'avrate ed è molto meno complesso in termini di giri quindi che cosa vuol dire e beh che se io sto per aprire questo squarcio fasico in una determinata posizione magari coordinarsi con i miei amici con quelli del mio team nel dire andiamo da questa parte oppure io prendo un flank voi continuate da questa parte insomma avere quel minimo di coordinazione e faccio le cose insieme e non da solo e potrebbe essere davvero molto molto utile allo stesso tempo potrebbe essere davvero molto utile poter dire faccio uno squarcio fasico per andare indietro volete salvarvi la pellaccia solo voi e lasciare i vostri due amici a morire ragazzi la situazione è sempre quella stiamo parlando di un videogioco dove c'è un trio c'è una collaborazione da soli non si vincerà squarcio fasico non vi permetterà di vincere gli incontri squarcio fasico comunque fa vedere ai nemici il nemico che fa la percorrenza appunto di questo squarcio quindi in qualche modo non siete invisibili se qualcuno vede che l'avete aperto vedrà anche che l'avete attraversato e vedrà anche quindi che siete in quella determinata posizione e guarda caso se voi avete messo uno squarcio fasico dove appunto non avete copertura quindi fatto così giusto per fare i nemici inizieranno a tartassarvi e voi non potrete riprenderlo indietro come l'avrete e salvarvi la pellaccia sarete lì in mezzo senza abilità senza la possibilità di far nulla e io vi chiedo e mi domando questo squarcio fasico quando deve essere utilizzato deve essere utilizzato in tandem con le abilità dei nostri amici deve essere utilizzato con il sentore del attacchiamo tutti insieme deve essere utilizzato con potremmo definirlo testardaggino o comunque costanza cosa voglio dire voglio dire che se avete portato avanti un attacco con squarcio fasico portatelo avanti anche se questo vi porta alla morte non fate come vedo fare in molte occasioni apro squarcio fasico e poi fuia 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 mi hanno ucciso mi hanno traccato non ho più vita voglio assolutissimamente tornare indietro appunto non avete analizzato correttamente vi siete fatti sgamare e squarcio fasico vi ha punito tantissimo e severamente e come ultimo mi voglio mettere qui piccolo piccolino e farvi gustare dei pro player che Ash in qualche modo stanno cercando di evolvere il suo gameplay stanno cercando di capire come essa potrebbe essere utilizzata al meglio e poi noi ragazzi andiamo a copiare una cosa che è avvenuta davvero tante volte voglio parlare dell'ultimo argomento e cioè delle tattiche perché utilizzare tattiche ok utilizzare quindi al meglio le nostre abilità ma poi saperle applicare in un contesto reale sono altre questioni ok che cosa voglio dire come per quanto riguarda tutte le cose che abbiamo detto sulle abilità di quest'oggi ok utilizzare al 110% capire le nostre abilità poi ci potrebbe permettere di utilizzare al meglio il nostro personaggio e appunto è quello che sto cercando di dirvi primo tips strategico per Ash abbiamo compreso che il personaggio non è di attacco né difesa essenzialmente è un misto è sbagliato pensare di poterla cambiare ok con Ash che prenderà il suo posto ma può essere visto in una squadra non molto portata per l'aggressività perché essa si muove molto velocemente tra uno stile difensivo e uno stile aggressivo l'abbiamo visto con la sua passiva l'abbiamo visto con la ulti ma l'abbiamo visto anche con la sua abilità tattica l'abilità tattica blocca i nemici possiamo attaccare oppure possiamo prendere un minuto di respiro la sua abilità passiva ci dà informazioni decidiamo di pushare o decidiamo di analizzare la situazione due modi di fare completamente differenti squarcio ci permette di flancare attaccare oppure battere in ritirata appunto ragazzi guardate qui il primo tips più importante in assoluto è che Ash è uno dei personaggi più neutri che potrete mai incontrare e switcha molto velocemente tra attacco e difesa tips numero 2 utilizzatela in combo con tutto quello che vi viene la potenza di Apex senza ombra di dubbio è quello di poter avere adesso tante leggende che fanno cose diversissime vi faccio dei semplici esempi impariamo a utilizzare la nostra Ash e poi utilizziamo le abilità del Revenant Revenant mette il suo totem una volta si utilizzava in tandem con Octane per appunto raggiungere velocemente con un jump i nostri nemici ora però abbiamo la possibilità di utilizzare squarcio dimensionale molto utile per andare attaccare e arrivare immediatamente in quella posizione vi sembra una cosa da poco assolutissimamente no oppure arriviamo i nemici sono molto distanti il nostro team non dispone di una Valco di un Octane Ash potrebbe aiutarci appunto con squarcio dimensionale ad arrivare prima Ash con la sua abilità passiva potrebbe aiutarci a comprendere meglio dove si trova un nemico e quindi non ritrovarsi improvvisamente e dire oh non sapevo che c'era qualcuno qui l'informazione e potenza allo stesso tempo Ash potrebbe aiutarci ad esempio a bloccare un nemico e quindi poi arrivare aggressivi aggressivi in the face of the enemy ancora continuiamo utilizziamo la nostra abilità di movimento per portare personaggi molto lenti come il Gibby come il Caustic velocemente dentro l'area di scontro immaginatevi entra il Gibby mette una bomba lancia la sua ultimate e voilà e siamo tutti belli tranquilli e calmi allo stesso tempo alcune ultimate della Bangalore che richiedono abbastanza tempo per essere utilizzate ok quindi devono venire giù questi razzi si piantano per terra e poi essi esplodono quindi da tutto il tempo ai nemici di poter fare cose gestire cose e muoversi la nostra Ash potrebbe un attimino bloccare queste questioni oppure ancora andiamo avanti con un altro tips le informazioni le informazioni ve l'ho già fatto ve l'ho già detto tante volte lo continuo a ribadire all'interno di questo video immaginatevi la possibilità di poter capire dove stanno i vostri nemici la possibilità di poter iniziare a pensare a come attaccare quei nemici iniziate a pensare la possibilità di capire come la rotazione andrà avanti nelle rank quelle più alte prendere una posizione prima che la safe inizi è qualcosa di importantissima high ground low ground dentro la vostra squadra c'è un seer dentro la vostra squadra c'è un blow down c'è un crypto non possono esserci tutti ragazzi ok per cui come vedete in questo in questo team qua sotto ad esempio abbiamo una rate abbiamo un jibi abbiamo una hash la hash deve occuparsi di raccogliere informazioni può essere quella che è un pochetto più avanti può essere quella che blocca può essere quella che ci dà informazioni può essere quella che in tempi di merda corre e batte in ritirata velocemente per ressarci oppure frontale riceve informazioni i nemici la stanno appunto aggredendo e preso d'assalto bene utilizziamo l'abilità per battere in ritirata utilizziamo la nostra abilità per prendere l'high ground una posizione importantissima per quanto riguarda Apex lo diciamo ormai da non so non so quanti video e come ultimo tips rincara ancora la dose e cioè che gli scontri non è vero che devono essere sempre portati sulla distanza e con le nostre armi potrebbero essere portati anche dal punto di vista psicologico immaginiamoci un third party immaginiamoci la possibilità di poter pushare e portare i nemici a spostarsi in determinate condizioni parliamo del fatto che anche le armi che portiamo indicano in maniera importante che tipo di game style vogliamo andare a portare e anche di come è composta la nostra squadra più o meno portata alla verticalizzazione più o meno portata all'attacco più o meno portata alla difesa ragazzi Ash può tranquillamente spostarsi e può diventare un personaggio multi come potremmo dire multi style ok con la possibilità di darci una mano in tantissimi campi che può andare dal fight a raccogliere informazioni all'attacco alla strategia alla difesa ok all'analisi di quello che succede insomma è un personaggio che ha delle abilità facili da utilizzare hanno alcune limitazioni certo ma puoi utilizzarle bene in un combattimento dove le situazioni succedono molto tutto molto come posso dire in maniera molto frenetica ma prendere quella posizione prendere quell'informazione prendere quel determinato tipo di punto potrebbe davvero definire la vita e la morte quindi la vittoria e la sconfitta per il vostro team ah si ragazzi con questo video credo davvero di avervi dimostrato che leggere un'abilità comprenderla e poi cercare di svilupparla che vi servirà obiettivamente tanto tempo e beh sarebbe una cosa davvero molto importante per iniziare al meglio ad utilizzare quella leggenda ma credetemi i video non sono finiti qui soprattutto sulle guide fra un po' passeremo a fare dei video molto più puntigliosi su come utilizzare bene e meglio le nostre leggende io spero che questo video vi possa essere servito per avere quella marcetta in più per evitare tutti quei try and fail che si fanno con le leggende appena introdotte che tutti vogliono provare e che dire spero che il video vi sia stato utile se così fosse ragazzi vi aspetto nel prossimo video lasciate anche un piccolissimo like ve ne sarei davvero molto molto grato e noi ci vediamo in un prossimo mega video ciao grazie a tutti ciao